allora buongiorno a tutti se non accettano quei due che ben sappiamo conte e simeone non capisco perché spalletti non possa venire all'inter sinceramente sappiamo che il tecnico toscano come si pone con i media è alquanto discutibile sappiamo che a volte fa discorsi un po contorti tipo la Trapattone e non so se anche lui li capisce questi discorsi ma il curriculum di spalletti è tuttanto il primo di vettorie tipo sappiamo benissimo lo Zenit molti sostengono che sia un'eterno seconda ma se guardiamo la sua prima Roma e anche la seconda ha avuto avversarie di livello assoluto tipo la nostra Inter e tipo la Juventus poi fa anche un bel gioco, fa giocare bene le proprie squadre soprattutto una cosa molto importante in questo momento per una società, per una squadra come l'Inter non si fa mettere i piedi in testa da nessun calciatore e tutti ottavoli di Roma lo dimostra concludo dicendo che non capisco per quale motivo spalletti sia sottovalutato da molti in fondo Allegri prima di diventare un top ha detto di molti come allenatore non ha detta mia allenava il Cagliari non vedo perché spalletti non possa fare la stessa cosa che ha fatto lui con il Milan con la Juventus e con la nostra Inter ovviamente deve essere aiutato da una società forte che li fa anche una squadra competitiva almeno per vincere lo scudetto grazie vi invito a iscriversi a iscrivervi a Interista Criticone nel Azzurro nel Cuore mi raccomando ciao ciao